quante ore ormai stiamo davanti al pc sì è bello possiamo imparare tante cose giocare al nostro gioco preferito ci consente di velocizzare il nostro lavoro però bisognerebbe giustamente starci un tempo adeguato interagirci troppo stanca la nostra mente soprattutto i nostri occhi perché allora non creare un timer dove potremo comodamente decidere se spegnere o meno la macchina vediamo come si fa apriamo innanzitutto il nostro amato blocco note e scriptiamo questa volta non creeremo un batch ma un visual basic script per chi non lo sapesse acronimato vbs utilizziamo il v script che va a specificare il metodo slip parametrizzato in millisecondi naturalmente nel mio caso adopero 1 millisecondi che se la matematica non è un'opinione è pari ad un secondo per farvi vedere immediatamente come funziona però se volete settare ad esempio un'ora questo metodo slip sappiate che dovete utilizzare 3 milioni e 600 mila millisecondi quindi insomma non complichiamoci la vita ora cosa succede? dobbiamo richiamare un message box ma siccome quest'ultimo deve restituire un valore il valore deve essere contenuto per poter essere poi verificato in una variabile che noi per semplicità chiameremo finestra facciamo ora una stringa scrivendoci desideri spegnere il pc così ci comparirà un bel messaggio di dialogo per avvisarci di tale operazione allora il message box è settato di default per far comparire il bottone ok quindi cambiamo questo testo per rendere più consona la risposta e perciò scriviamo indirettamente sì e no attraverso il parametro 4 per abbellire ancora di più l'avviso aggiungiamoci l'icona del punto di domanda ovvero quella che si riferisce alla guida del supporto tecnico richiamata dal parametro 32 la finestra deve risultare in primo piano e quindi aggiungiamo quest'altro parametro ovvero 4096 infine settiamo il titolo ovvero spegnimento mettiamo adesso lo statement if per poter stabilire se la finestra contiene il valore 6 se abbiamo cliccato su sì e 7 se abbiamo cliccato su no riformulando il discorso in maniera simile se noi confermiamo su sì si attiverà il parametro 6 che farà arrestare il sistema operativo se noi confermiamo su no verrà chiuso il messaggio di dialogo sul parametro 6 dovremmo richiamare la finestra del cmd con la linea di comando shutdown che per chi non lo sapesse italianizzato significa appunto arresto per poter fare ciò settiamo un oggetto vsh shell con l'oggetto vscript e metodo create object e che parametro mettiamo? vscript.shell così in questo modo vsh sarà in grado di richiamare il metodo run che lancerà appunto il prompt dei comandi cmd che sarebbe il nome del file exe che avvierà il prompt poi slash c ovvero il parametro che impone la chiusura dopo che ha finito di utilizzare la linea di comando shutdown perciò specifichiamo quest'ultimo con i comandi spegnimento e tempo pari a 2 secondi successivamente utilizzeremo il parametro 0 per far sì che la finestra del prompt sia nascosta in conclusione utilizzeremo false affinché vscript arrivato a questo punto non interrompa la lettura delle righe di codice ma che continui fin alla fine chiaramente adesso vediamo cosa dovrà fare il nostro interprete vscript qualora il valore della finestra non sia 6 ma 7 qualora noi cliccassimo appunto sul no basterà mostrare un'altra finestra che ci confermi che abbiamo annullato la procedura di spegnimento quindi message box annullamento dell'arresto di sistema e poi infine settiamo 0 che è sufficiente che mostri solamente il bottone ok no più 64 poi per richiamare l'icona di notifica dell'informazione e poi più 40 96 questo parametro l'abbiamo visto prima per metterlo in evidenza non scordiamoci di dare il titolo quindi annullamento in modo tale che sia semplice e chiaro quello che è accaduto una volta concluso l'if richiamiamo l'oggetto vscript col metodo quit in modo tale che chiuda e si arresti lo stesso vscript una rapida occhiata mi fa capire che ho rispettato la sintassi che sia tutto corretto insomma quindi non ci resta che salvare con estensione vbs siccome è stato settato ad un secondo dopo questo lasso di tempo si avverà il messaggio di dialogo desideri spegnere il pc con il titolo e l'icona io dico no ed in questo caso ecco che appare il secondo messaggio di dialogo potendolo chiudere con il bottone ok proviamo ora a fare stavolta su si e naturalmente si dovrebbe arrestare il sistema un'ultima cosa dovremo a buon diritto mettere il collegamento nella cartella esecuzione automatica perché in questa maniera quando io andrò ad avviare il sistema operativo a sua volta aver avviato il file vbs che sarà già pronto per poterlo utilizzare quando ci sarà bisogno naturalmente è una cosa facoltativa vedete voi se è più idoneo per le vostre esigenze bene per questo argomento è tutto ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo video